Non basta tanto cuore ad un barletta meno brillante del solito per espugnare il campo della pericolante afragolese e restare in scia dalla capolista cavese, o da lontana sei punti. Anzi, i biancorossi vengono staccati dal Nardò e agguantati da un brindisi di salita, tutto questo proprio a tre giorni della super sfida contro Dan e compagni. Nel complesso, nel pomeriggio di Mugnano di Napoli, poche emozioni ma tante polemiche, inasprite nel post partita dei biancorossi per una direzione di gara con più di un punto interrogativo. Nel barletta non c'è mister Farina in panchina dopo l'espulsione contro il Casarano, al suo posto il vice Carbone, spazio nuovamente al 4-3-3 con il rientro di Petta in difesa accanto a Polidori, Cristallo e Feola a vertici del centrocampo guidato da vicedomini, Loiodice e Russo e Maccioni in attacco, dall'altro lato del campo, modulo a specchio per Leonardo Bitetto, Padulano e Tripicchio chiamate a mettere a fine l'astinenza da gol di Fabio Longo, arrivata ad 8 turni. Si fa preferire in avvio la fragolese, Esposito salta la difesa con un bel lob, Longo stop e si coordina ma trova l'opposizione fondamentale di Polidori. Al dodicesimo, Allegra prova il colpo ad effetto con il destro al volo, mira imprecisa. Fatica il barletta, apprezzabile la fragolese tra le linee, Longo raccoglie una palla vagante, scarica per Esposito ma il delizioso tiro a giro non sortisce all'effetto sperato, fuori di nulla. Primo tempo non spettacolare ma gara apprezzabile per ritmi ed intensità, il barletta esce dagli spogliatori con un volto diverso, dentro Scaringella e Cafagna per Feola e Cristallo con un assetto decisamente più offensivo e spigliato. La prima vera esplorazione dalle parti di Iurino per poco non propizia il gol del vantaggio, Loiodice porta a spasso quattro uomini sulla sinistra, Cross, Scaringella colpisce a botta sicura, Arrivoli fa muro col corpo e spingendo la palla sul palo. Il replay evidenza l'intervento salva risultato dal difensore. Pitetto richiama Longo affidandosi alla freschezza di Martigniello, Carbone inserisce il ristabilito Lattanzio per Maccioni con passaggio ad un 4-4-2 puro al fianco di Scaringella. Propri due attaccanti sono protagonisti dell'episodio da Moviola a 10 dal traguardo. Vicedomini crossa, torre di Scaringella, Lattanzio anticipa Virgilio e col petto fa 1-0. L'esultanza incontenibile dei Biancorossi viene messa subito a freno dal signor Franzò di Siracusa che, nonostante un parere discordante del secondo assistente, reputa che l'attaccante ex bitonto abbia spinto la palla in fondo al sacco con la mano e non con il petto. Si crea un parapiglia generale, con lo stesso Lattanzio ammonito ma nulla di fatto. Si resta 0-0. Le immagini non scaggiano del tutto il direttore di gara. Nel finale è il nervosismo invece il principale protagonista, battibecchi continui messi a tacere dal triplice fischio, un punto che in sostanza serve più alla Fragolese che al Barletta, ora obbligato a fare bottino pieno nell'anticipo della 28esima giornata contro il Brindisi. Al Puttilli, mercoledì prossimo, start previsto alle 14.30.